E finalmente ci siamo! Oggi è il 9 maggio, ovvero Goku Day, ebbene sì, c'è stato l'annuncio ufficiale del nuovo film di Dragon Ball Super che arriverà direttamente nel 2022. Adesso ragazzi è finalmente online il nuovissimo sito dedicato a Dragon Ball, è proprio il sito ufficiale e tra le varie notizie abbiamo appunto un annuncio incredibile. Eccolo qua ragazzi, lo troviamo alla nostra sinistra, a Big Announcement. Mamma mia che inglese così, di domenica mattina. A parte gli scherzi ragazzi, in realtà ce l'aspettavamo tutti, ormai si sapeva, era già una sicurezza. Qualcuno nonostante ciò era in grandissimo dubbio e invece eccoci qua, direttamente con quella che era anche la release del sito ufficiale abbiamo anche almeno la notizia. Devo essere sincero, mi sarei aspettato qualcosina in più, ma fermi tutti, comunque abbiamo qualcosa su cui iniziare a fare qualche teoria. In primis, mi raccomando ragazzi, lasciate adesso un mi piace se volete che io vi aggiorni sempre su tutte le novità di questo nuovissimo film di Dragon Ball Super, ma chiaramente anche su tutte le novità dell'anime, del manga e in particolar modo dei videogiochi di Dragon Ball, che come sapete sono il focus, quello su cui noi ci concentriamo appunto direttamente qua sul mio canale. Ma ritorniamo a noi, 9 maggio 2021, chiaramente è il primo giorno in cui il sito è online e c'è la notizia ufficiale. Quindi c'è un messaggio ufficiale da parte di Akira Toriyama. Il maestro ragazzi ci va a rilasciare un messaggio che io vi avevo già postato in anteprima delle mie stories di Instagram. Mi raccomando, seguitemi su Instagram perché lì le novità non appena escono, le faccio uscire direttamente tramite stories, post e poi chiaramente solo successivamente ci vado a fare dei video. Questo messaggio è piuttosto breve, così come Toriyama ormai ci ha insegnato, e ci dice che un film tutto nuovo da Dragon Ball Super Broly è al momento in lavorazione, quindi ci stanno lavorando in maniera ufficiale, è proprio una dichiarazione ragazzi che non lascia scampo a idee o dubbi, mettiamola così. E ci dice che proprio come il film precedente si sta occupando in maniera pesante per quanto riguarda la storia e la produzione dei dialoghi appunto per un nuovo incredibile film. Quindi Akira Toriyama stare, diciamo, lavorando a quella che è la storia di questo film, e io ragazzi chiaramente sono felicissimo di questo. Io credo che per quanto riguarda Dragon Ball Super, proprio quella che è la storia di Super che stiamo vedendo, anche ora come ora ci sia una grandissima influenza da parte di Toyotaro. È solo un mio parere, può essere non condiviso, poi ognuno ci vede quello che vuole e la pensa come vuole. Il fatto di sapere che, almeno l'apparenza, la storia dovrebbe essere curata effettivamente in maniera totale, i dialoghi compresi da Akira Toriyama, credo che sia un ottimo segno. Dice che ora purtroppo davvero non può parlare troppo di questo, o meglio non può parlare troppo della storia ancora, ma ci dice che sta preparando, o meglio sono in preparazione, degli scontri estremi e divertenti, diciamo, che intrattengono. Quindi scontri estremi vuol dire che probabilmente vedremo più mazzate, parliamoci chiaro, di quelle che abbiamo visto forse in Dragon Ball Super Brawley. Io me lo auguro, però devo dire la verità, anche lì, ragazzi, se le sondate, come si deve. Che potrebbero, diciamo, interessare, riguardare, o ci azzecca comunque in qualche modo in mezzo, un personaggio inaspettato. Inaspettato vuol dire quindi che non è un nuovo personaggio, è un personaggio inaspettato, non mi ha scritto a new unexpected character. Quindi un personaggio inaspettato vuol forse dire che già lo conosciamo, o semplicemente non ha messo troppo peso Toriyama queste parole, e ci ha parlato di un personaggio inaspettato che non ci aspettiamo perché appunto forse non lo conosciamo. Diciamo che probabilmente quando fanno questo tipo di comunicazioni ci tengono spesso a rimarcare il fatto che si tratta di personaggi completamente nuovi, personaggi mai visti prima. In questo caso si parla di un personaggio inaspettato. Io ho visto, soprattutto all'estero, si parla di cooler, si parla anche di altri personaggi in generale che fino ad ora sono non canonici, qualcuno l'abbiamo visto nei film, e molti vorrebbero cooler o altri personaggi simili. Devo essere sincero, io per ora preferisco non sbilanciarmi, perché le informazioni sono relativamente pochissime, ma andiamo avanti. Ci addentreremo in territori inesplorati in termini di visual aesthetics, in pratica di grafica, proprio di effetti visivi e robe simili, per dare al nostro pubblico un'esperienza, un viaggio incredibile. Quindi vuol dire forse che il film potrebbe avere anche uno stile grafico completamente nuovo. Chissà cosa si intende, spero non farci una roba tutta completamente in 3D, ma non me lo aspetto nemmeno, non credo. Però parlando di qualcosa, di un territorio completamente inesplorato, può essere stanno lavorando ad un comparto grafico e visivo totalmente nuovo. È una frase che può avere vari significati, o magari semplicemente si stanno impegnando di più a disegnarlo come si deve, quindi per ora non abbiamo ufficialità al riguardo. Quindi dice che spero che tutti, diciamo, saranno interessati, guarderanno questo nuovo film. Va per chiuderlo in maniera easy. Chiaramente, ragazzi, è un messaggio molto molto breve. Non ci sono troppe informazioni, però ci sono delle piccole cosucce, anche se veramente troppo piccole, su cui possiamo, diciamo, basarci per dire due paroline. Si parla di unexpected character, quindi un personaggio inaspettato. Adesso, Waiu, dovete scrivermelo voi nei commenti. Secondo voi, di chi si tratta? Si tratta di un personaggio di cui si è parlato un botto di tempo fa, come per il film di Dragon Ball Super Brawley, tipo Yamoshi e simili? Oppure si tratta di un personaggio completamente nuovo, o appunto di Stokuler, di cui tanti parlano? Fatemi sapere voi che ne pensate, perché io credo in generale che potrebbe essere veramente un bel film, dato che dovrebbe potenzialmente anche rilanciare Super dopo due o tre anni di stallo o di fermo. Mettiamola così. Devo essere sincero, il sito mi piace un botto, ragazzi. Abbastanza easy. Nel complesso, per quanto comunque ci sono a schermo cosucce, sbrilluccicose e abbastanza notabili, è abbastanza chiaro come sito, abbastanza semplice da navigare. Tra l'altro oggi, ragazzi, è anche il Goku Day, si chiama così perché il numero 5 e 9 in Giappone si leggono una roba del tipo Goekua, c'è scritto tra l'altro, e di conseguenza viene ufficializzato, ecco c'è scritto qua, by the Japanese Anniversary Association, quindi in pratica è stato proprio ufficializzato il giorno del 9 maggio come Goku Day, ed è un giorno quindi molto particolare. Tra le varie notizie ci sono altre cosucce, diciamo nel complesso, piuttosto piccole. Si parla praticamente del nuovo capitolo di Dragon Ball Super, si parla, vabbè, di roba abbastanza easy, e poi io, ragazzi, che sono un appassionato di figure, credo che ormai lo sappiate, ho visto con grandissimo interesse la nuovissima Ace Age Figures di Goku Super Saiyan di quarto livello. Ecco, questa mi piace veramente un botto. Voi sapete benissimo, ragazzi, che nel corso degli ultimi anni qua sul canale vi ho portato varie Ace Age Figures, che sono una linea di figure di alto livello, e sono figure piuttosto piccine, nel complesso saranno sui 17-18 cm, poi dipende chiaramente dalla stazia e dal personaggio stesso nella sua altezza. Questo personaggio uscirà ad ottobre 2021 e include, vabbè, chiaramente il corpo principale, il personaggio in sé, poi avrà mani e testa intercambiabili. La testa forse no, si parla di left-hand e right-hand, quindi direttamente le mani. Ha anche le espressioni differenti e poi un effetto della Kamiami Aper 10, che è questo qui, che vediamo direttamente qua. Tra i vari highlights credo che non ci sia nient'altro di speciale. Il sito, ragazzi, è stato messo praticamente online oggi, quindi c'è relativamente poco da vedere. Peccato che, devo essere sincero, un po' spiacevole il fatto che al momento le uniche lingue siano giapponese, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Non c'è l'italiano, mannaggia la miseriaccia, però. Speriamo possa arrivare in futuro. Ho i miei grandissimi dubbi al riguardo. Diciamo che per questo sito, ragazzi, hanno fatto un po' di hype alle spalle, ecco, addirittura con dei trailer e robe di questo tipo. Secondo me ci sta. Dovevano rilanciare almeno un sito ufficiale fatto come si deve, sperando che possa essere qui l'hab principale da cui arriveranno tutte le più grandi notizie dedicate a Dragon Ball da ora fino al futuro. Poi in basso ci sono vari banner dedicati a Dokkan, Legends, altri Sage Figures, Shonen Jump. Ragazzi, informazioni relativamente pocucce. Oggi mi sarei aspettato, non dico un trailer assolutamente, non me lo sarei aspettato, un teaser nemmeno tanto me lo sarei aspettato, ma mi sarei aspettato un'immagine almeno su cui poter parlare. Anche un'immagine, non dico sfocata, ma qualcosa che non lasciasse nemmeno troppo chiaro un messaggio, qualcosina che ci desse almeno un'idea per poter speculare un pochettino, purtroppo non c'è stata, ma ragazzoli, noi siamo qui, non appena arriverà qualcosa, chiaramente ve lo comunicherò direttamente qua su YouTube, Instagram, soprattutto su Instagram, perché lì, non appena vengono rilasciate nuove informazioni, ve le metto tramite stories, quindi andate a seguirmi, vi lascio il link qua sotto direttamente nella descrizione. In ogni caso mi trovate come JosephGamer. Che dire ragazzi, grazie per essere stati questa domenica qui con me, buon Goku Day, io oggi probabilmente festeggerò guardando uno dei miei film preferiti di Dragon Ball o qualche mio episodio preferito dell'anime. Quindi, un bacione, io vi saluto e alla prossima. Ciao!